Pretendiamo un'università pubblica con spazi, un'università che non agisca come un'azienda, che non pensi al profitto ma che pensi al beneficio degli studenti e dei professori che la vivono. È stato un blitz con affaccio da uno dei balconi della sede centrale dell'Università di Cafoscari, quello degli studenti del fronte della gioventù comunista di Venezia. Una manifestazione per chiedere più spazi per l'attività didattica, studentati accessibili solo agli studenti e il proprio no alle lezioni al sabato, una decisione quest'ultima dettata secondo gli studenti dalla mancanza di investimenti in spazi per l'area umanistica e linguistica. La sede di Cacappello destinata agli studenti di area linguistica è stata chiusa e inoltre dopo anni che il ritorato promette la ristrutturazione di Tesa 4 a San Basilio a Libito per l'area umanistica i lavori non sono ancora iniziati, un luogo che può ospitare all'incirca mille posti e sedere per gli studenti.